A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis, cari amici il vento è ancora il protagonista, vento anche forte sui rilievi anche sul nostro territorio però comunque la situazione almeno sul nostro territorio sarà abbastanza tranquilla nella giornata di domenica ultime precipita, ancora, no più che ultime, ancora precipitazioni sull'arco alpino quindi anche delle nevicate, però vedete sul resto del territorio, su zone pianeggianti, sulla Liguria situazione decisamente tranquilla, con cielo sereno o poco nuvoloso e questa è una buona notizia, è una buona notizia perché su zone pianeggianti e sulla costa il tempo sarà buono sarà anche abbastanza bello, diciamolo pure vediamo le temperature, temperature che si abbasseranno un po' nei valori minimi mentre l'aria è un po' più fresca, valori minimi tra i 2 e gli 8 gradi in Liguria sulla costa attorno ai 10 gradi centigradi temperature massime che invece aumenteranno un po' proprio grazie al maggior soleggiamento temperature massime infatti comprese tra i 9 e i 15 gradi per il momento è tutto, cari amici di Rete7 vi lascio ai nostri programmi buona domenica, arrivederci